undicesima puntata di ciao darwin 5 l'anello mancante era il 27 novembre del 2007 e a sfidarsi categorie sociali miste tra di loro quindi sia uomini che donne sia donne che uomini si sfidarono infatti in un duello all'ultimo colpo di prova l'ultimo colpo di sciabola i mariti contro le mogli a capitanare la categoria la compagina la squadra chiamatela come caspita volete dei mariti c'era il buon Enzo Paolo Turchi a capitanare invece la categoria delle mogli c'era la bellissima rispettiva moglie di Enzo Paolo Turchi sto parlando di Carmen Russo la vittoria andò alle mogli alla categoria mogli bella come puntata non ci fu una grande rivalità simpatica piacevole graziosa e garbata un saluto